La città nella città che protegge il guerriero ripudiato dalla Champions League è lontana dal Bernabeu e dalle redazioni dei giornali. Del resto anche a questo servono lusso e vigilanza privata. Il dolore, come il successo, vanno preservati. Il buon retiro del tecnico del Real Madrid è lì, dietro quella sbarra alle mie spalle. Siamo alla finca, la zona più esclusiva di Madrid. In fondo a quel viale le case di tanti giocatori del Real, Cristiano Ronaldo, Kakà, Sergio Ramos, Casillas. Il primo di giugno, secondo le indiscrezioni, lascerà questa casa. Ha già comunicato ai domestici di cercarsi una nuova occupazione. La sentenza è stata rinnovata sui giornali di oggi. Il fallimento si è compiuto, titolano gli eterni nemici da Barcellona. Quelli di Madrid vadano solo al cuore lacerato del madridismo. Per la critica, il bottino dello special in tre stagioni è molto normal. Un campionato ed una Coppa del Re e la prospettiva di aggiungere un'altra Coppa nazionale nel derby di metà maggio. Non può bastare ad equilibrare i bilanci. Questione di giorni e queste strade, queste facce per Mourinho potrebbero tornare straniere. La silhouette di Ancelotti sembra allungarsi sempre più sul Bernabeu, mentre il Chelsea chiama col suo carico di amore e con gli oltre 110 milioni di euro che Abramovic avrebbe già disposto per il mercato dello special. Questione di cuore, insomma. Io non ricordo, in questi ultimi 20 anni, un entrenatore del Real Madrid che abbia tenuto più protezione, più cariño, più affetto e che le abbia dato più potere dal club e dalla presidenza che a Mourinho. Eppure, nella Madrid che celebra un primo maggio di protesta e che dà ospitalità ai tanti tifosi del Borussia, la gente sta dalla parte di Mou. Io credo che c'è più madridisti a favore, che si chiede, che in contra. Io, per la mia parte, lo echaria di meno. Però io sono orgulloso. Mi piace molto Mourinho perché se lo trabaja molto, se lo curra molto nei plantamenti dei partiti tra i motivi dell'affetto e la crescita del Real, bloccato per sei stagioni agli ottavi, poi il carisma del tecnico che da nomade del calcio top class potrebbe trasformarsi in una sorta di Ulisse del terzo millennio. Saprà la Premier restituirgli la grinta del triplete? Londo, mentre chiama, già sogna.